Dalla Toscana a Sanremo e ritorno. Francesco Guasti, pratese, 34 anni e terzo classificato tra le nuove proposte sul palco dell'Ariston nell'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana, ha voluto consegnare al presidente della regione toscana Enrico Rossi il suo album Universo. Un ringraziamento, ha detto Guasti, per le opportunità aperte dal progetto regionale Toscana 100 Band, a cui hanno partecipato 750 gruppi sotto i 35 anni e da cui Guasti è uscito premiato con un assegno, ma soprattutto con 50 ore di formazione con esperti del settore musicale, un percorso che di selezione in selezione lo ha portato dritto a Sanremo. Ha fatto sì che dalla nostra regione arrivasse un messaggio forte anche a tutta Italia, di far sì che la cultura, la musica, perché la musica è cultura e il lavoro soprattutto, perché dietro c'è tante persone che si impegnano, sia proprio partita da questa bellissima regione. Quindi sono orgoglioso di far parte di questo Toscana 100 Band. Dopo la consegna del CD al presidente Rossi, selfie di rito e la prospettiva di una nuova edizione di Toscana 100 Band che rientra nelle iniziative del progetto Giovani Sì, perché la musica, ha detto Guasti, per qualcuno è un hobby ma per molti è un lavoro e anche con le note, precariato e disoccupazione possono essere combattute. Dobbiamo indire un altro bando e dare risposta a questo grande bisogno che c'è da parte dei giovani, di essere protagonisti, di poter dire la loro, di poter esprimersi anche in modo creativo. Sarebbe bello un giorno ritrovareci tutti insieme con queste 100 band. Ora per Guasti che la musica ce l'ha nel sangue, fin da quando a sei anni si mise a suonare la batteria, si apre una stagione di concerti che culminerà in un appuntamento dedicato alla popolazione di Amatrice colpita dal terremoto.